Mi sono fatto assumere da una ditta di import-export, la grande cosenza international trading. Praticamente è un'azienda che si occupa di esportare la cultura calabrese in tutto il mondo, no? Sì, esportiamo melanzane, fichi secchi, pomodori secchi, soppressate, mitragliatori, c'è un po' di tutto così. Salvo, il capomagazziniere mi fa, Pino, vuoi venire a lavorare da noi nella nostra ditta? Ti faccio, ma già, faccio il collaudatore di materassi. Mi fa, dai, ti faccio guidare il muletto. Mi inizia, domani mattina alle sei, sono già lì subito nell'azienda. All'indomani, pronti via, ero già sul muletto. Mizzica, ho a fare le pene davanti agli impiegati e agli impiegati in mutio. Che poi perché si chiamano impiegati? Perché stanno sempre impiegati sulla scrivania a lavorare e così. Mizzica, mi piacerebbe anche a me un po' impiegarmi come gli impiegati. Già mi vedo lì davanti al computer, la tastiera, inserisco i dati. Con la presente le comunichiamo in data odierna che i palazzi rimarranno chiusi. Poi salvo, salvo, sì, salvo come il capomagazziniere, schiaccio. E poi stampo, e c'è scritto, oh Bruno Vespa, c'è le sigalette. Grazie a tutti.